Allora, prendiamo le cipolle, le tagliamo a rondelle, le mettiamo in una padella, con dell'olio le facciamo rosolare, aggiungiamo i funghi porcini, li facciamo cuocere con un po' di acqua, portati a cottura vengono frullati con della panna, messo il composto nel sifone e dopodiché vengono calati i fiocchetti, sei minuti di cottura e poi vengono impiattati con la spuma di porcini e la granella di raccione. Grazie